Adesso arriva il bello, abbiamo vinto, ci abbiamo perso, domani è la prova del 9, quindi dobbiamo essere carichi, questo è il nostro pubblico, questo è il caso nostro, dobbiamo fargli vedere il sorcivile. La chiave per battere il Brasile secondo te? Sicuramente, non lo so, di preciso, a livello tecnico bisogna giocare la nostra migliore palla a volo e tutti dobbiamo dare il 110% perché, come sappiamo, il Brasile finché ci giochi alla pari ce la giochiamo, se loro vanno avanti diventa complicato. Noi possiamo fare il nostro giorno ancora e dire la nostra.